Michele, perché questo amaro è stato dedicato a Milone? Questo amaro è stato dedicato a Milone per il mito, per la grande forza di Milone. Infatti il payoff che sta sotto il marchio è appunto forte per natura. Forte per natura perché il nostro prodotto è naturale, non ha caramello, è solo fatto di infusi e aromi naturali. L'idea nasce dal mito proprio della forza e perché Milone era custode del Bosco Sacro e del Tempio di Era la Cinea. La nostra ricerca è stata fatta praticamente per due anni, abbiamo ricercato quelle che potessero essere le erbe, gli alberi, le piante che stavano nel Bosco di Era per creare questa ricetta che potesse in qualche modo rievocare questi infusi, questi profumi, questa atmosfera della Calabria Magno-Greca dove Croton era capitale. Una leggenda narra che Milone non terminasse mai un banchetto senza assaporare questo nettare che è donato dalla Dea Era per ringraziarlo delle sue imprese, della sua devozione e noi ci siamo ispirati proprio a questo, alla creazione di questo nettare. Ho visto il video ed è molto bello, una storia alla nostra del passato che torna sempre attuale. Abbiamo una storia fantastica, abbiamo una storia fantastica che purtroppo viene conosciuta troppo poco, davvero troppo poco. È una storia meravigliosa che bisogna recuperare, bisogna recuperare la nostra memoria storica per cominciare a sognare in grande, far sì che Crotone diventi, ritorni anzi, ritorni a essere quella civiltà che è rimasta sepolta per troppo tempo. Noi stiamo cercando di farlo attraverso un prodotto, attraverso un amaro che ci sta già dando piccole soddisfazioni perché comunque è molto apprezzato, ancora nessuno ci ha detto che a noi piace, insomma questa è la soddisfazione più grande. È forte per natura, è un prodotto di 35 gradi, quindi è un prodotto forte, fa parte di quella parte di liquore, che sono amabili, è un amaro che è sicuramente da provare. La storia dico è meravigliosa perché ad esempio al mondo esistono tantissime, tantissime palestre che si chiamano Milone in tutto il mondo. Abbiamo statue a Louvre di Milone in Inghilterra, abbiamo statue in tantissime parti del mondo di Milone, viene ricordato in dei quadri, viene ricordata in tantissime parti, purtroppo da noi troppo poco. Attraverso questo prodotto cerchiamo anche di fare un'operazione dal punto di vista culturale, appunto per rilanciare quello che è la storia, portare la gente a ragionare su quello che è la storia di appartenenza di un territorio davvero grande. Le imprese di Milone sono senza uguali e quindi possono davvero essere veicolo di cultura anche per il nostro territorio. L'amaro Milone è già in commercio e come hai realizzato questo video? Da che cosa sei partito? Il prodotto è già in vendita da una decina di giorni dal nostro sito web e a Crotone presso la Vecchia Enoteca di Nandino La Vecchia. Siamo presenti in alcuni locali, infatti il prodotto potrebbe essere scelto tranquillamente dai crotonesi che vogliono assaggiarlo all'interno dei locali. Il video nasce appunto per dire che c'è la storia dentro perché anche con un po' di presunzione vogliamo far sì che questa storia venga riscoperta. Il nostro amaro è, noi lo chiamiamo digestivo, rimigorente, dal gusto forte e deciso. E vogliamo, abbiamo studiato appunto perché la ricetta venga fuori così. Nel video abbiamo voluto appunto dire che c'è la storia dentro. Tra un po' inizieranno altre campagne di comunicazione che spero che vengano apprezzate appunto per far capire la forza di questo amaro ma la forza del mito di Milone. E quindi facendo così praticamente ripristinare quello che è lo stato dell'arte, cioè lo stato dell'arte della bellezza del nostro territorio.